Il Carlevet Turing rappresenta per la città di Torino il connubio che per molti anni si è creato tra l'ambiente festante delle giostre in piazza Vittorio Veneto e la maschera tipica della città di Gianduia e Giacometta che percorrevano via Po seguiti da carri allegorici. Oggi il Carnevale rappresenta altresì il connubio tra giostre e maschere ma le collocazioni sono differenti. Le giostre sono situate al Parco della Pellerina, sede del grande Luna Park di Carnevale mentre la sfilata dei carri allegorici si snoda per le vie della città. Nel weekend del 18-19 febbraio si svolgerà la grande sfilata del Carlevet Turing 2012. La sfilata del Carnevale di Torino avrà luogo sul circuito del Carnevale presso il Parco della Pellerina. Alla sfilata prenderanno parte le maschere del Carnevale, bande musicali, gruppi mascherati appiedati e carri allegorici di diverse località piemontesi. Il Carnevale torinese avrà una durata dal 5 febbraio al 13 marzo presso il Parco della Pellerina. Per tutto il periodo il Parco si anima con il Luna Park e la tradizionale Fiera dei Vini. Bande musicali e gruppi majorette nelle vie centrali, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, via Garibaldi, piazza Statuto. Quindi bande majorette che danno il via al Carnevale. Poi domenica invece è la giornata della sfilata dei carri, dei gruppi appiedati, delle maschere e dei Carnevali che avverrebbe come sempre sul circuito del Carnevale che è quello ormai definito in questi ultimi anni. Corso Regina, Corso Lecce e Corso Appio Claudio praticamente attorno a Luna Park del Carnevale che ricordiamo è il più grande d'Italia con i suoi 150 mestieri o attrazioni, mestieri intesi come attrazioni. E poi diciamo la Fiera dei Vini che è l'altra importante attività che si svolge per tutto il mese, quindi fino abbiamo detto al 4 di marzo.